Oggi ricominciamo con le interviste di Sondi in Onda e siamo in compagnia da Bologna di Riccardo Mazzi Masetti. Ciao, grazie per essere qua ovviamente. Allora Riccardo, prima di tutto cos'è quel tatuaggio e perché ti chiami Mazzi? Eh beh, questo è Mazzi, questo è il mostro che ha dato il soprannome, il mio soprannome essenzialmente, quindi da lì l'ho tenuto da quando ho sei anni è diventato il mio nome d'arte anche. Insomma ce l'hai appiccicato addosso. Ce l'ho appiccicato addosso. Allora tu hai iniziato a fare, se non vado errato, musica in una band che faceva cover punk, una cosa così e poi hai iniziato a suonare in un'altra band e poi sei arrivato a un progetto tuo solista. Esatto. Perché questo percorso? Perché arrivare a un progetto solista? Il progetto solista nasce proprio da una mia esigenza di esprimere ciò che non riesco diciamo a esprimere, io che sono una persona estremamente estroversa, le parti più interne, le parti più interiori di me, le cose che non riesco a dire a voce essenzialmente, le riesco a dire soltanto suonando e cantando. Quindi proprio sono sfoghi, le mie canzoni sono sfoghi di quello che ho dentro essenzialmente. Ok. Per adesso, se non vado errato sempre, hai pubblicato due album. Sì. E c'è in procinto l'uscita di un altro album che è... Il 7 gennaio del 2019. Ah ok. Quindi a breve. Esatto. A breve. Si intitolerà come? Una promessa. Una promessa. Da questo album tu hai già estratto però un singolo. Un singolo, questo che l'ho stampato anche in edizione limitata perché penso che sia la mia canzone migliore per quanto riguardo il concetto e l'emozione che ho provato nello scriverla e nel cantarla. E il pezzo si chiama Avrai tanto davvero e è un pezzo a cui tengo veramente molto. Di cosa parla? Parla praticamente di tutte le gioie che una persona può trovare nella propria vita che non serve avere soldi, serve sempre avere soldi, però non serve per forza la ricchezza. Quando hai piccoli tesori che raccogli nella vita piano piano scopri quando apri la porta di casa che tutti questi tesori ti hanno fatto una ricchezza gigante essenzialmente e quindi questo è esattamente quello di cui parla la canzone. Ci sono concerti a breve che dovrai sostenere? Concerti. Prima dell'uscita dell'album ho fatto qualche concerto per presentare i brani nuovi. Quello più importante è il 9 di novembre al Covo Club di Bologna in apertura agli amici Abu che fanno la release del loro disco che mi hanno invitato e i Bombay, un'altra band di Bologna molto valida e sarà una bella serata. Sono convinto perché il Covo poi è covo. Certo, certo, certo. Tempo fa ho visto un'intervista a una famosa rock star, non ti dico quali perché è tanto inutile, non è importante, che diceva che ogni tanto gli capita, eri cantante, gli capita di andare sul palco e cantare senza cantare, cioè lui canta ma in realtà le canzoni li scivono addosso, ok? Ti è mai capitato? Sempre, le mie canzoni non so neanche come faccio a ricordarmi la memoria perché delle volte tipo non me le ricordo effettivamente, salgo sul palco ed esce proprio liscia. E poi è facile per le persone in generale band o cantautori o musicisti che scrivono i brani propri, cioè che sono talmente intrinsechi nel loro io che vengono fuori per forza, in automatico. Mi dai però una definizione di quello che tu sei artisticamente? Io mi definisco un one man band, ovvero un cantautore di oggi essenzialmente, non quelli che parlano con le parole diciamo comuni come possono essere whatsapp, quelle cose che non valgono nulla, a parer mio, ma una persona che esprime proprio quello che ha dentro, quindi una necessità artistica, ecco. Allora Riccardo è rientrato da Parigi per questa intervista, quindi ascoltatelo. Grazie. 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 Grazie.